La Lega è compatta intorno a Salvini? La Lega non è compatta, è stra-compatta. La Lega, guardi, tutto si può dire alla Lega, tranne che nella Lega ci siano fratture. Ho letto dei retroscena, addirittura, ho letto che si attribuiscono a me posizioni che non ho mai espresso. Quello che vi voglio dire è questo, fa comodo a tutti dire che le cose vanno bene, magari fa comodo a tutti portare avanti i governi, tanto per stare ciascuno seduto nella poltrona. Se si fa una scelta di dire così le cose non vanno, è ovvio che è una scelta fatta esclusivamente nell'interesse degli italiani. Ma chi fa comodo una situazione di questo genere? Quindi non è una scelta di comodità, è una scelta di responsabilità. Perché il ministro non ci sono rimediato.